Il 3 dicembre in programma la seconda domenica ecologica della stagione autunno-inverno 2023-2024. La circolazione dei mezzi privati sarà vietata all'interno della fascia verde al mattino dalle 7.30 alle 12.30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30. Come di consueto sono previste alcune edero che potranno ad esempio circolare liberamente le auto a benzina Euro 6, quelle elettriche, ibride a GPL, metano o bifuel, benzina più GPL o benzina più metano, anche trasformati ma solo se marcianti a GPL o metano e omologati in classe Euro 3 e successive. Via libera anche alle auto con contrassegno disabili e mezzi dei servizi sharing.